Con Michele Pierguidi parliamo un po' di tanti temi oggi, iniziamo sicuramente dal tema della conferenza stampa, cioè dell'aspetto della sicurezza del torneo nel prossimo weekend, dove tu sei presidente del quartiere, Stand Back Day Yellow Line, quanto è importante comunque anche a livello proprio di tema da dare ai giovani l'aspetto della sicurezza quando siamo in stazione? È molto importante, i dati sugli incidenti di questo tipo, cioè di comportamento sbagliato nelle stazioni vicine ai binari, sono in aumento, questi incidenti sono in aumento, quindi è molto importante sensibilizzare anche a questo tipo di sicurezza, la sicurezza ferroviaria ai nostri ragazzi. L'agenzia che si occupa di questo è a Firenze, già in passato aveva organizzato nella nostra città una bella manifestazione per il mini basket in Piazza Santa Croce, c'era stato anche lo spot dei ragazzi dell'Olimpia Legnaia con la nazionale trenale di basket impegnata agli europei, credo che sia una bella occasione per fare imparare dei comportamenti giusti quando si è in stazione, quando si è vicino ai binari, ai ragazzi e credo sia un'occasione bellissima per giocare a pallacanestro. Parliamo anche un po' della società di cui sei simbolo, della Sankat, è un periodo di chiusura di stagione, però c'è il tema comunque dell'Under 16 eccellenza che è un po' la vostra squadra di punta, sabato è arrivata una sconfitta a Livorno però che può allungare un po' la strada verso l'Interzone, verso questo sogno delle finali nazionali, però ci credete ancora? Il terzo posto vi dà la possibilità di arrivare là? Sì, dimostra il fatto che abbiamo fatto davvero un grande campionato, il fatto che vai al Don Bosco Livorno e hai la Mario in bocca perché perdi una partita che puoi vincere. Quindi non c'è niente da dire a questi ragazzi, sono stati straordinari e da sempre che sono straordinari, così come ha fatto un grande lavoro lo staff Stefano Corsini, Simone Fioretti, il preparatore atletico Carlo Laface, uno staff di professionisti che si è messo al servizio di una squadra eccezionale composta da ragazzi che probabilmente riusciranno a fare qualcuno anche il giocatore di pallacanestro, questo ci riempie d'orgoglio, noi siamo nati nel 2007 come Sancat, quindi in molti mi dicono ma non avete fatto un giocatore di pallacanestro, non abbiamo ancora avuto il tempo di farlo. Vedete questi ragazzi del 2000, tra qualche anno probabilmente li vedremo anche su qualche campo importante, per noi questo è grande soddisfazione. Vogliamo andare all'interzona, se ci dobbiamo passare con lo spareggio del 1 maggio, passeremo lo spareggio del 1 maggio, vogliamo andare all'interzona e vogliamo andare alle finali nazionali, questi sono i nostri obiettivi con questa squadra. Pensiamo di avere una squadra all'altezza di questo obiettivo, è un obiettivo massimo perché le nostre sono finali nazionali vere, dove c'è lo scudetto vero, facciamo un campionato d'eccellenza, quindi è veramente un motivo di grande soddisfazione per noi. Stiamo concludendo anche con l'Under 15 e con l'Under 16, campionati con alti e bassi, un po' deludente a livello dei risultati sia l'Under 15 che l'Under 14, un po' deludente a livello dei risultati ma soddisfacenti dal punto di vista del miglioramento dei ragazzi. Abbiamo anche lì ragazzi veramente molto interessanti, Nencioni nell'Under 15 oltre a Fred Lorbis che è anche una colonna portante dell'Under 16 e nell'Under 14 si sono messi in vista tanti ragazzi, tra tutti Leone e Avellini che anche loro hanno interessato le selezioni regionali, ma non soltanto loro, anche lì ci sono delle individualità importanti. Per quanto riguarda le altre squadre abbiamo rispettato gli impegni, abbiamo fatto buoni risultati, abbiamo soprattutto mantenuto alto il livello tecnico, non abbiamo abbassato un centimetro, tutti hanno avuto un allenatore professionista, tutti sono stati seguiti da un preparatore atletico, hanno avuto un programma atletico individuale e di squadra. Questa è la Sankat, vogliamo fare le cose per bene, continueremo a farle per bene anche in futuro per fare il giocatore di Palacanesto, questo è il nostro obiettivo.